Ben trovati al Tg Sordi di Lecce 7. Sono ore di apprezzione a specchia per la sedicenne Noemi Durini, scomparsa da una settimana. Per le ricerche della ragazza è intervenuto anche il reparto di investigazioni scientifiche dei carabinieri. Si è conclusa con 37 arresti l'operazione Contatto, che ha sgominato un ramo del clan Coluccia, attivo nei comuni di Sogliano-Cavur e Cutrofiano. L'organizzazione mafiosa gestiva traffici di droga, estorsioni e rapine e disponeva di una grande quantità di armi. Nell'operazione dei carabinieri sono rimasti coinvolti anche l'ex vice sindaco di Sogliano-Cavur, un vigile urbano, un carabiniere e un agente di polizia penitenziaria. Via libera del Ministero dell'Ambiente alle ricerche di petrolio nel mare del Salento Una società americana ha avuto l'autorizzazione a cercare idrocarburi a largo di Leuca, attraverso la tecnica dell'Airgun, che produce delle piccole scosse di terremoto sottomarine. Il Consiglio Comunale ha approvato la delibera che certifica un debito fuori bilancio di circa 8 milioni di euro. A sorpresa il centrodestra si è diviso. Il gruppo di Grande Lecce ha votato insieme alla maggioranza. Allagamenti in molti punti del Salento per il violento acquazzone registrato nella giornata di sabato. A Porto Cesareo, paure e disagi a causa di una tromba d'aria che ha divelto a alberi, facendo ribaltare un camion e una barca. Rizzo dice addio alla panchina del Lecce. L'allenatore si è dimesso dopo la sconfitta per 3 a 0 contro il Catania. Una decisione sofferta ma irrevocabile, ha detto.